Perdere per una squadra ci può stare quando le sconfitte arrivano con dignità, ma quando sono provocate dai videnti errori arbitrali fanno molto male. Stefano Passarelli di Chieti ne ha combinate di tutti i colori. Due gli episodi incriminati, un gol non concesso al Sulmona e un errore nell'assegnazione di una rimessa laterale che ha determinato il raddoppio della Virtus San Vincenzo Valleroveto. Peccato che ci sia stato un arbitraggio così perché va a sminuire i contenuti di una gran bella partita giocata tra due squadre degne dell'alta classifica. Gara combattuta sin dai primi minuti con diverse occasioni sia dall'una che dall'altra parte, tra le più eclatanti quelle capitate al nono con Ginnetti che manda di poco a lato e al dodicesimo con Valentini che non riesce a battere Silvestri spedendo in out. La partita sale sempre più di intensità e al ventunesimo i sulmonesi sono sfortunati quando il palo nega la gioia del gol a Ginnetti. Il primo tempo si conclude con un'opportunità degli ospiti con Di Girolamo ben servito da Colone. Il punteggio cambia al decimo della ripresa con il vantaggio della Virtus San Vincenzo Valleroveto siglato da una punizione del bomber Paolo Milanese. Il Sulmona due minuti dopo sfiora il pareggio con un tiro a distanza ravvicinata di Veneziale che togli con una mano di via in corner. Successivamente si registrano due tentativi del San Vincenzo con Milanese e Rossi. Si arriva poi all'azione incriminata. Al diciannovesimo minuto Krasnici conclude con il sinistro palo e gol anzi no per l'arbitro ma dalle immagini televisive si nota chiaramente il movimento della rete provocato dal pallone. Stefano Passarelli di Chieti nega dunque un gol regolarissimo che scatena le proteste dei locali tanto da provocare l'allontanamento del tecnico Fonte e l'ammunizione di Liberatore. La partita riserva altre emozioni, addirittura un palo per parte. Al ventitresimo è Rossi a colpirlo e subito dopo Veneziale in seguito ad una rimessa in gioco errata di togli. Al ventottissimo diventa nuovamente protagonista in negativo l'arbitro quando concede in maniera errata una rimessa laterale agli ospiti. Il numero 8 Rovetano Valentini colpisce la palla di testa che finisce fuori ma Passarelli assegna stranamente la rimessa agli ospiti. Sulla conseguente battuta si sviluppa il gol del raddoppio del San Vincenzo-Valle Rovetto sempre con Milanese. Sul finire Milanese fallisce un tiro libero con Silvestri che devia in corner. Il Sulmona Fuzza la perde per 2-0 ma il vero sconfitto è Stefano Passarelli. Peggio di così non poteva arbitrare. Sotto gli occhi di tutti non commento normalmente quello che fanno gli arbitri. Per me ha commentato il commissario di campo il quale alla fine ha detto scusa a nome dell'associazione arbitri che è stata una direzione vergognosa. E questo se lo dice lui ha più titoli di me per dirlo. Al di là del gol ho visto delle interpretazioni sbagliate, dei condizionamenti da parte dell'altra squadra che sono... Per un arbitro che fa questa categoria non ci dovrebbero essere. Metti la mano in tasca per tirare fuori il cartellino e vieni richiamato dalla panchina avversaria e lasci la mano dalla tasca per ammonire un giocatore. Questo è una cosa che non esiste in questo sport. Purtroppo quest'anno è andata così. Il rammarico più grande è che oggi la Fenice ha anche pareggiato. Avremmo avuto un'occasione per giocarci l'ultima in casa, per giocarci il primato. Niente, dobbiamo onorare questo secondo posto. È andata così. Ai ragazzi miei faccio un plauso perché hanno dato tutto quello che avevano. Poi magari diremo anche qualcosina sugli episodi in discussione. Prima però vogliamo mettere in evidenza le tante occasioni sciupate nel corso di questa partita dal Sulmona che almeno un gol, anche due, li avrebbe meritati. Un gol l'ha fatto. Un gol l'ha fatto. L'abbiamo visto tutti tranne l'arbitro mi sembra. Ultima considerazione allora alla parte del mister. Un gol l'ha fatto. Le occasioni sono sempre tante. Noi siamo una squadra che proponiamo gioco. abbiamo preso gol su una palla inattiva, come sempre. Poi abbiamo preso gol su una valutazione sbagliata dell'arbitro, secondo me, perché la palla l'ha toccata. Evidentemente il loro giocatore... Il numero otto, il numero otto del San Vincenzo Valeroveto che l'ha toccata. La palla è terminata fuori. Cosa fa l'arbitro? assegna la rimessa alla formazione avversaria. Loro partono veloci. Questa è anche esperienza. Insomma, i ragazzi devono crescere sotto questo punto di vista. Queste sono lezioni. Bisogna prendere il lato positivo. Il lato positivo adesso è che ci dobbiamo giocare i playoff e li dobbiamo vincere. Se pensiamo troppo e rimaniamo troppo a questa partita non andiamo da nessuna parte. Oggi è andata così. Questo è il gioco del calcio. Ci sono cose molto più gravi a cui non si può mettere rimedio. Questa mi sembra che sia una cosa... Sono cose che fanno male molto perché mister Uno durante la settimana lavora molto, si allena molto, fa tanti sacrifici, deve sacrificare anche ore alla famiglia, al lavoro per dedicarsi allo sport, in questo caso al calcio a cinque. Poi si arriva il sabato e per colpa di una conduzione di gara pessima, insufficiente, succede il patatrack. Sì, sì. La prestazione dell'arbitro è stata completamente insufficiente. però alla fine noi abbiamo avuto tante occasioni. Se la palla la mettiamo dentro la partita non ha senso. Abbiamo giocato, abbiamo provato, loro si sono racchiusi lì e sono ripartiti. I golli sono venuti sui episodi. Hanno fatto poco altro, penso, durante la partita. Mi adopererò per mandare la cassetta all'arbitro perché questo sarà un mio punto. Mettiamo un nodo al fazzoletto, la mando all'arbitro così lui la rivede e capisce dove ha sbagliato perché in effetti ha sbagliato tanto. Però non è quello. Il campionato noi ce lo siamo giocati in altre partite, in altre partite probabilmente. Questa è una partita dura, loro è una squadra quadrata che corre, hanno un giocatore di categoria superiore e si vede. Noi probabilmente non abbiamo avuto quella cattiveria giusta sotto porta. Detto questo faccio un plauso ai miei ragazzi. I miei ragazzi sono incomiabili, ci hanno messo tutto, ci hanno provato in tutto. Il cruciale è che oggi la Fenicia ha pareggiato, quindi sono dentro lo spogliatoio in una situazione che, insomma, è di rammarico forte. Andiamo avanti, cerchiamo di andare avanti, anzi andremo avanti cercando di giocarci le partite e mi auguro di rincontrare San Vincenzo qua, ai play-off.